trovo lì degli spettri a fattoria frenetica e adesso raccomando che io tramite pass battaglia non ha capito non ha capito che lo coperai pass battaglia quando arriverò di 90 non so se mi spegnò anche il box ma poi la cazzo di animali eh ti coppere perchè così ti vai anche in box eh ma ne vanno a due scelte eh ci sono uno No, non mi sembra di sentire qualcosa No, non mi sembra di sentire No, non mi sembra di sentire ma che mi hanno distrutto ok 100 bravo grande deve esserci fatti lo scudi lo tieni fatti lo scudi lo tieni fatti lo scudi lo tieni ah no no, non spargare ho il medikit, vieni tieni tieni, ho il medikit ma fatti lo tieni ah, ho lo spazio detto tutto ciò, non l'ho trovato eccolo sta lì devo prenderlo no, si è spostato no, mi vede sta sul petto abbiamo fatto 41 ma cazzo si sposta ma come si sposta ah, me l'ho preso no, non lo so non lo so no, non lo so ah, ma fa muro tutto ah, dove ci hanno? il brago non sta venendo qua ecco qua ecco qua si 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 devo stare vicino ti ho fatto 30 vicino no oh ok, 80 vai 60 grande sei lì tra l'altro sei lì tra l'altro sei lì tra l'altro volevo polizzi guarda, te non si li ho vediails eh, vado a prendere Olli ok ok mamma vio che partita trovate un attimo ok Olli per favore, non andare via Olli ok guarda la skin è cambiata guardami pensate che è cambiata? dimmi fuori, dimmi fuori dimmi si, si se il video vi è servito lasciate un like e iscrivetevi al canale